Ancora polemiche sui vaccini, grandi esclusi al momento dalla campagna di vaccinazione, sono ancora i lavoratori del mondo dei trasporti, nonostante lo stretto contatto che ogni giorno hanno con il pubblico. Per questo motivo Angelo Ciccone, segretario nazionale del sindacato Sat Ursa, ha lanciato un accurato appello per tutelare la salute dei suoi colleghi. In questo momento veniamo discriminati rispetto alle altre categorie alla quale abbiamo tantissimo rispetto come lavoratori della sanità, della scuola, della giustizia e quant'altro. Noi lavoratori del settore dei trasporti siamo stati esclusi da questa campagna vaccinale perché non la si ritiene prioritaria. Posso solamente dire che tantissimi colleghi hanno pagato di persona con la propria vita perché sono stati presenti nella piena pandemia di questo maledetto Covid-19 che definiamo un killer. Quindi non vediamo perché noi siamo stati in questa campagna non tenuti in serie considerazione per quanto riguarda la campagna vaccinale. Ed è per questo che stiamo sviluppando una serie di iniziative che parte da quella di essere una campagna informativa capillare tra tutti i colleghi del mondo dei trasporti e non solo, ma il nostro scopo è quello di sensibilizzare il mondo istituzionale su questo grande tema che deve vedere noi ferrovieri non lavoratori di serie B ma siamo lavoratori ugualmente esposti come tutti quanti gli altri. Noi siamo quei lavoratori che in un particolare momento di estrema esigenza abbiamo dato prova di alto senza di responsabilità, consapevolezze ma soprattutto assicurare ai trasporti la piena funzionalità. Quindi ecco perché noi rivendichiamo che veniamo inclusi in una campagna vaccinale in equal misure come tutti quanti gli altri lavoratori. Invitiamo il Ministro della Sanità, della Salute, il Ministro della Salute che prende atto di questa nostra rivendicazione di essere messi in campo come iniziativa e di intraprendere una campagna vaccinale che ci tuteli come tutti quanti gli altri. Ripeto, noi non siamo lavoratori di serie B.